Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova serie della Pixelmon. La Pixelmon non è altro che una mod che unisce il mondo di Minecraft a quello dei Pokémon. In questa versione della Pixelmon sono presenti tutti i Pokémon fino alla quinta generazione e dato che non è una serie in survival saremo aiutati dal fatto che non ci saranno i classici mob di Minecraft e che potremo teletrasportarci usando i waypoint per quindi ritornare nei luoghi che abbiamo già visitato. Come vedete oggi non sono da solo perché questa serie la giocheremo assieme a tutto il gruppo di amici che vedete. Ognuno di noi porterà avanti la sua avventura singolarmente ma ci saranno diverse occasioni per fare video assieme agli altri. Ognuno di noi poi ha scelto un Pokémon starter diverso. Io ho scelto Bulbasaur, Pokémon d'erba di prima generazione. Eren ha scelto Syndaquil, Marci ha scelto Totodile, Charlie ha scelto Mudkeep che è veramente minuscolo, quasi non si vede, Kennoia ha scelto Charmander, Matteo giustamente ha scelto un Pokémon di fuoco e quindi Torchic, Tear ha scelto Tartwig, Metano ha scelto Cicorita e infine The Mark ha scelto Squirtle. Bene ragazzi, a questo punto non ci resta che iniziare. Ed inizia qua ragazzi la mia avventura pannella Pixelmon. Come vedete mi trovo all'interno del villaggio, alle mie spalle c'è già un centro Pokémon, ma in questo episodio vorrei allontanarmi da questa zona per esplorare un attimo nel mondo e anche per andare a recuperare i primi materiali perché ragazzi dobbiamo assolutamente iniziare a craftarci le prime Pokéball e per questo mi servirà del ferro, mi serviranno le ghicocche, insomma ci sono un bel po' di cose da fare. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito ad esplorare. Ok ragazzi, vorrei dunque avventurarmi un pochino all'interno di questa foresta, andare a cercare ovviamente i primi materiali e a magari a raccogliere le prime ghicocche. Come vedete già qua ci sono degli alberelli ma sono già stati presi, quindi andiamo a prendere innanzitutto la legna che ovviamente ci serve per craftare i primi oggetti. Se notate una differenza ragazzi nella mia voce è perché ho cambiato microfono. Infatti quello che avevo prima che era il Blue Nessie mi stava abbandonando e quindi per non rischiare ne ho comprato un altro e ho preso un Blue Yeti che è un microfono molto molto buono. Un'altra cosa che noterete sicuramente è che ci sono gli alberi un pochino strani. Infatti ho installato la mod Better Foliage per migliorare appunto la resa delle foglie e dell'erba. Allora io mi sposterei in questa zona, cercherei di evitare di prendere troppo danno da caduta ragazzi perché anche se ci troviamo in un mondo senza i mob possiamo comunque morire e quindi dobbiamo in ogni caso stare attenti. Ho visto che sul server ci sono già il buon Eren e anche Metano e quindi ragazzi c'è la probabilità che ci incontriamo da qualche parte, anche se io come dicevo all'inizio vorrei spostarmi un pochino. Un'altra cosa che volevo dirvi, dato che io non sono espertissimo del mondo dei Pokémon vorrei che voi nei commenti mi possiate dare suggerimenti, quindi magari quali Pokémon cercare, che team creare e ovviamente vi chiedo di non essere troppo cattivi con me se commetto degli errori. Oh qui ci sono delle ghicocche di colore verde, io le prendo perché ovviamente vanno prese e poi al limite faremo anche delle farm. Ho visto che gli altri le hanno già fatte però per il momento non vorrei usufruire delle loro farm ma cercarmele anche perché loro appunto sono andati in giro e le hanno cercate. Adesso qui ci sono in giro un sacco di Pokémon, sicuramente qualcuno mi sfiderà eh ragazzi, quindi c'è la possibilità che farò qualche combattimento. Ok andiamo a farci i primi attrezzi, quindi direi di prendere un'ascia e anche eh sì direi un piccone così possiamo scavare un pochino la roccia e andare a cercare una caverna perché dobbiamo assolutamente andare a recuperare i primi materiali, ci serve assolutamente del ferro per fare le Poké Ball e possibilmente anche le ghicocche di colore rosso. Ne ho vista una prima ma eh c'era solamente il fiore quindi non era ancora diciamo matura. Ragazzi ho trovato del carbone e quindi mi sono craftato una torcia e dato che ci troviamo in Minecraft 1.10 la possiamo tenere nella seconda mano e quindi fare luce eh quando entriamo nelle caverne. Uh! C'è del ferro lì! Ragazzi dobbiamo prendere assolutamente. Allora vediamo un po' di non cadere giù qua perché mi sembra abbastanza alto. Allora vediamo un po' dove possiamo scendere. Io scenderei di qua. Eh dunque ah ho trovato anche una ghicocca nera prima eh non so se eh avevo la registrazione accesa oppure no quindi vedrò dopo quando ho la clip. Ah ok si può scendere di qua perfetto perfetto. Mi sa che mi servirà anche un piccone migliore di questa roba qua che mi ha già eh praticamente scocciato quindi vado a farmi quello almeno in pietra. Oh! Così posso andare a lavorare un po' meglio e soprattutto a recuperare velocemente le cose. Dov'è l'altro ferro? Perfetto qua. Vediamo di non cadere giù. Ok. Wow! Sì! Che bello! Ferro tutto mio. Vieni qua e scendiamo di qua. Ah! Quanto ferro è? 4? 5? Va bene. Allora qua dovremmo riuscire a fare luce come vedete. Non ci sono i mob di Minecraft. Uh! Guardate ragazzi quanto ferro! Ragazzi ho già recuperato 28 blocchi di ferro grezzo quindi ottimo e adesso possiamo anche scendere un pochino in profondità. Io direi di tappare un attimino qua. Io però le torce le vorrei piazzare comunque perché c'è il rischio che non trovo più la strada del ritorno. Ok? Che posso scavare verso l'alto però non si sa mai. Io qua vorrei scendere ancora. Tanto la... Eeeh! Un altro ferro qua! Perfetto! Perfetto! Ah no! Questo non è ferro forse. Cos'è sta roba? No no! È ferro o che cosa? No no! È un'altra cosa ragazzi! Guardate come dura! Riuscirò a recuperarla? Sì? No? Cosa ho preso? No! Mi sa che non l'ho recuperata quindi devo stare attento e magari farmi il piccone di ferro perché ho paura che alcuni materiali non li riesco a recuperare con quello di pietra eh! Dunque ragazzi mentre sto eh smeltando un po' di ferro che ho trovato qua sotto ho visto eh ancora quel materiale che eh ho visto poco fa che dovrebbe essere la bauxite che si dovrebbe prendere esatto con il piccone in ferro. Perfetto! E con questo materiale si possono costruire un sacco di macchinari eh della Pixelmon quindi utilissimo veramente quindi sono stato molto fortunato almeno credo però vedo che c'è anche tantissimo ferro e questa è la cosa migliore secondo me in questo momento. Allora io farei una cosa visto che qua sta lavorando il ferro lascerei un waypoint che poi vado a eh cancellare e lo andiamo ad aggiungere qua allora qui mettiamo eh fornace lo chiamiamo così e eh confermiamo in questa maniera possiamo ritornare in questo punto mentre esploriamo la caverna. Io vorrei scendere ancora di più in profondità anche perché se trovassi diamanti sarebbe anche la cosa più bella al mondo ovviamente tech fortuna ci vuole anche nella Pixelmon. Voi cosa dite? Allora uh è questo? Sì questo è rubino questo è rubino? Ok sì prendiamo anche rubino e anche l'oro mi servirà l'oro per qualcosa non lo so ma lo prendo ragazzi non lo so ma lo prendo fantastico un sacco di materiali uh uh oddio ci sono dei ma ah ok però non ci dovrebbero essere i ragni eh perché siamo in modalità praticamente peaceful e quindi non ci sono i ragni ok anche se abbiamo trovato una fantastica miniera però abbiamo trovato anche il rubino che io prendo non so bene a cosa mi potrà servire ma poi andrò a vedere sulla wiki qua c'è altro rubino che rubo ovviamente rubo il rubino mamma mia come dopo questa cosa vi sarete disiscritti cos'è un ponte ma bellissimo ragazzi qua mi sa che stiamo scendendo tantissimo e quindi guarda guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì tech fortuna yeah tech fortuna va bene ho fatto l'achievement dei manti alla primo episodio ragazzi ok ma chi è che c'era online? Eren va bene ok ok rosica magari un po' anche lui ok ragazzi abbiamo trovato tutto quanto adesso vado avanti anche di qua qui c'è anche la redstone sì sì perché qualche macchinario magari lo potremmo anche fare non lo so ci pensiamo dai ragazzi cosa sta succedendo qua ci sono dei pokemon oddio livello 37 mi potrebbero fare malissimo questi qua dunque se io faccio così dovrei capire che pokemon dugtrio questo è dugtrio dugtrio e questo? l'iron beh comunque sono tutte e due a livello del 58 e 37 li lascerei lì dov'è eh perché diciamo che sono un po' pericolosi mi potrebbero shottare il mio povero bulbasaur immediatamente e via di ferro ragazzi stavo scavando guardate qua che disastro cioè praticamente c'è una specie di lago di lava qua devo stare attento perché se cado giù ci muoio e ho anche tutti i diamanti allora aspetta 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 posso scendere sì voglio vedere se ci sono altri diamanti allora vedo ferro oro ma ragazzi qua c'è ma guarda guardate altri diamanti ragazzi no non ci credo non ci credo prima puntata ragazzi non mi smentisco mai eh non mi smentisco mai mai tech fortuna colpisce ancora attenzione che qua facciamo una brutta fine saliamo rimettiamoci questa benedetta torcia in mano ma sono diamanti questi ah no questi non sono diamanti ragazzi non sono diamanti questo è un altro cristalli no sono stato ingannato mi ha trollato vabbè dai comunque diamanti li ho presi prima ragazzi ho trovato questo strano blocco che è praticamente oddio stavo per cadere un fire stone shard perfetto quindi è una scheggia di fire stone ok ragazzi sono tornato alla fornace poco fa con un bel po' di materiali e ho trovato questo punto qua vediamo un po' questo che cos'è ovviamente è dello zaffiro quindi prendiamo anche lo zaffiro ragazzi noi prendiamo tutto poi se ci servirà o meno lo capiremo benissimo ho cambiato questo waypoint scrivendo caverna più canyon più miniera perché è una zona molto molto bella questa qui quindi vorrei tenere questo luogo per eventualmente altre spedizioni ragazzi qui ci sono altri materiali quelli che mi hanno tratto in inganno oh altri di questi zaffiri qua e questo oh questo questo cos'è silicon ore vabbè io prendo anche questo ragazzi bene bene altri materiali cose nuove cose da scoprire ma non è questo il punto dove devo andare però anche se ci avviciniamo alla zona del dello spawn ah qui altri rubini benissimo ragazzi sono uscito dalla caverna tutto tranquillo per fortuna nessun pericolo anche perché altri pokemon non ne ho incontrati quindi vado a cercare ora le ghicocche di colore rosso perché io voglio soprattutto quelle visto che sono quelle con cui vorrei iniziare a costruire le prime pokeball quindi ragazzi ora mi faccio un giro qua nella foresta e vediamo se le troviamo ragazzi le ho trovate non siamo lontanissime dallo spawn ma eccola qua perfetto ghicocca rossa me ne servono un po' adesso quindi devo aspettare che ricrescano oppure andare in giro a cercarne delle altre ragazzi faccio ovviamente questa cosa off camera là in fondo ce n'è un'altra è una pokeball ma cos'è quella cosa lì no no andiamo a vedere ragazzi è una pokeball no impossibile ah no è un cos'è ragazzi c'era dentro della roba ah ecco scusate eh non ho capito bene che cosa fosse quindi ho preso del dragon rage ah interessante ok ragazzi scusate ma non avevo capito bene che cosa fosse quella va bene continuiamo a cercare le ghicocche rosse dunque ragazzi finalmente ho recuperato tre ghicocche rosse e adesso andiamo a craftarci la nostra prima pokeball allora innanzitutto dobbiamo mettere le ghicocche a cuocere nella fornace così in questa maniera otterremo tre ghicocche rosse cotte quindi attendiamo un attimo ecco qua abbiamo ottenuto le nostre tre ghicocche rosse abbiamo anche preso l'achievement poi andiamo a piazzare la nostra crafting table in questa maniera qua e con queste tre ghicocche rosse andiamo a craftarci la parte superiore della pokeball ne craftiamo ben cinque perfetto adesso andiamo a prendere il nostro ferro e con questo andiamo a craftare la parte sottostante della nostra pokeball però ora dobbiamo anche lavorarla perché dobbiamo utilizzare un incudine quindi facciamo così ci craftiamo l'incudine quella appunto per lavorare le pokeball poi dobbiamo craftarci un martello quindi andiamo a prendere innanzitutto degli stick e facciamo il martello di ferro così perfetto poi andiamo a prendere quindi questa parte inferiore la mettiamo qua e la lavoriamo aspettate che non mi ricordo come si fa così con il martello vediamo se ci riesco ok e voilà ragazzi abbiamo ottenuto la nostra base sottostante della pokeball la stessa cosa dobbiamo farla con la parte superiore quindi la mettiamo qua e la andiamo a picchiare con il martello adesso andiamo a farla ok perfetto poi dobbiamo anche avere della pietra liscia perché dobbiamo craftarci un bottone il classico bottone della pokeball quindi andiamo anche a preparare quello e finalmente potremo andare a craftare la nostra prima pokeball allora andiamo a fare il bottone così poi andiamo nella crafting table parte inferiore bottone parte superiore e abbiamo la nostra pokeball vado a farne altre ovviamente off camera e poi vediamo un po' se possiamo catturare qualche pokemon ragazzi sono stato sfidato da uno spiro quindi proviamo ora a combattere oddio il mio bubasaur è stato praticamente shottato al primo colpo fantastico mi hanno praticamente ucciso già beh ci riprovo un'altra volta vediamo se lo colpisco oppure mi distrugge ragazzi non lo so non lo so l'ho colpito l'ho colpito allora riproviamo ancora una volta dai un bel colpo non sono sicuro di riuscire a vincere eh perché ragazzi mi ha praticamente shottato l'ho abbastanza l'ho abbastanza indebolito io potrei provare a tirare una pokeball ragazzi ma si dai proviamo allora dai proviamo lanciamo la pokeball vediamo un po' vediamo se lo catturiamo l'ho indebolito dimmi di si siiii l'ho preso uno spiro non so se è un bel pokemon ragazzi però l'ho preso l'ho preso abbiamo preso il nostro primo pokemon ragazzi uno spiro interessante ed eccoci qua al nostro centro pokemon e qua ragazzi possiamo curare il nostro bulbasaur facciamo così mettiamo le nostre pokeball su questo aggeggio qua che è l'healer e riusciamo a curarli entrambe e dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo primo episodio in cui ho fatto veramente tantissime cose perché sono andato in caverna a recuperare materiali ho craftato le prime pokeball e ho addirittura catturato il mio primissimo pokemon spero che questo episodio vi sia piaciuto nel caso lasciate un like vi ricordo in descrizione tutti quanti i miei social network a questo punto io e il mio bulbasaur vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio ciao ciao